Il Chase, la marcia per il Chase compie 26 anni, sono 26 le edizioni di questa bellissima manifestazione. 26 edizioni sono tante e in fondo anche se negli ultimi anni forse c'è un po' meno partecipazione di persone alla marcia, però rimane sempre il fatto che è un interesse della cittadinanza per riconoscere l'associazione del Chase che in fondo dà un servizio alla cittadinanza stessa. La presenza del Chase ad Arezzo vuole anche significare che comunque il Chase fa riferimento a delle tematiche, delle problematiche che ancora sono lontane da essere sconfitte. Purtroppo sì, di solito mi piace dire che un'azienda ha sempre necessità di ingrandirsi e di ottenere maggiori risultati. L'azienda Chase, se così la vogliamo chiamare, raggiungerebbe il suo massimo scopo nel momento in cui chiude, perché non c'è più bisogno del suo apporto. Purtroppo non è così, la tossicodipendenza ancora è un problema grosso e noi continuiamo ad affrontarlo e speriamo che ci diano la mano per cercare di risolverlo, ma sarà ancora molto difficile.